Ragazzi siamo ad Arese, ci stiamo bevendo una birretta e aspettiamo un'insalatona con pollo e le patate fredde. Guarda dove siamo in alto! Guarda i swarovski! Mondadori! Come siamo in alto! Pitta rosso! Scarpia più da un po' a sé! Abbiamo fatto un giretto da Primark, ho proprio due o tre cosine e poi vi farò vedere. Tanto ci aspettiamo di mangiare. No ragazzi, guardate che insalatona! Camera man! Che profumo! Allora, quando mangio io non parlo eh! Quando io mangio non si parla! Parla Agnesi! Devo fanno alla bocca! Fanno alla bocca ragazzi! Sono arrivate anche le patatine fritte! Guarda che meraviglia! No ragazzi! Una patatina con sul ketchup! Aspettacolo! Ragazzi, abbiamo spazzolato tutto! Mancano ancora queste poche patate! Cin cin cin! Buone! Buonissimo! Le mangi un'altra! Cos'è il mole che le mangi un'altra! Eh! Il bambino è in dieta eh! Meno male! Oggi Non mi si sgarra eh! Non mai ne batte! Non mai batte! Cin cin! Ragazzi, andiamo da Kajger! Scendiamo! Prendiamo! Prendiamo le scale! Vai! Aspettami! Camera man 2! Dove vai? C'è la scala mobile! E qua ti gagne nessuno ragazzi! Ecco, adesso la porto al parco giochi dei bambini! Ragazzi, siamo da Kajgerancur! Cosa sono queste qua? Io gioco delle bocce mini! No ma che figata! Prendiamo un botto anche! Prendiamo! Occo giusto! Sono biglie! Sempre ad andare al mare eh ragazzi! Sezione bene eh! Questo è io che quando vai al mare sei una regata! Aspettami! Di qua! Ah guarda qua per far la ginna! Guarda questo qua! La ginna! La ginna! È una stravaccata questa qui eh! Guarda che fumo! Ok! Non è finito! Mi fa male più le braccia e tutte le gambe! Tutta roba per la ginnica! Guarda che bello questo! Adesso c'è la faccia della Mirella quando c'è bisogno di qualcosa! Guarda che belle queste panni! Attaccate alla... Ma che carina! Guarda come brillano queste panni di paillettes! Ma che bello! Guarda come brilla! Brilla! La ginna per vengli appuntamenti sexy! No ma guarda! Guarda! Marco! Camera me! Guarda c'è... Lo vedi il gatto? Adesso non c'è più! Bellissimo! Tira lì giù! Guarda che bello! Ah che bello! Guarda! Che bello! Cambia la forma! Questo vediamo Rosa cosa diventa! Qui? Niente! In su? Cambia colore va! Ma dai! Anzi prende anche dentro la pelle! Le scaglie del pesce! Che bello! Guarda che bello! Guarda che bello! Guarda che bello! Sono gomme! Ma che gommona! E' perché fa tanti errori che... E' perché? A seguito è cancellato! Eccolo lì! Che cos'è? Excalibur! Ecco qua il re Artù! Vedete il re Artù? No ma guarda che carina questa! Scatoletta! No la scureggia! Questa la devo prendere per il cameraman? Fagli lo scherzo eh! Ah il portatrucchi! Guarda! Per mettere le mattite! Lo smalto! Questa cos'è? Cos'è questa qua? La bilancia! No ma guarda che bella... Se vai su... Non ci stanno neanche i piedi! Come fai a salire qua su? Scusami eh! La bilancia via di... Cugina! Bilancia da bagno! Da bagno? C'è scritto da bagno! Bilancia da bagno! Ma scusami vuole avere i piedi 32 qua! Fai a salire! Massimo 100 kg! Io ne vado ancora! Che bei gli specchietti! Ha trovato il suo eh! Ma che spettacolo! Questo qui quando guardo la televisione... Sai che c'è il collo, il collare... Che bello! Per la cervicale... Ma io lo metto su anch'io quando tu parli che non ti sento più... Così lo metto su qua e non ti ascolto più... Ma che spettacolo! Che colo voglio Cudi! Ma che... Ma che testa! C'è anche tre guglie! Così c'è il collo al caldo! Sembile un Digimon! Ma che Roma! Ma che... I want a... Carine! Quei piatti! Ma che bella la teiera così verde! Che odore! Guarda che bella questi qua! Gicchiere glitterato! Guarda che la sono! Trimper! Ops! E' un giro che ti spacco tutto! E' importante! E' importante quello che vuoi! E' importante quello che vuoi! Porti! Qui è erba fumarina! Qui si pippa ragazzi! Qui si pippa! Va che roba! Che d'è sta? Canapa! Che d'è sta? Timo! Mi vengono all'allergia solo a sentire l'odore! Timo! Questo è... Dove svegli leggi qua? Questo è Timo! Questa dov'è sta? Cannella! Ma che cannella! Ma che casina! E' cannella qui! Ma sono rotte le spezie! Tè, erbe, mela! Ma che roba! Timo! Ma quant'è spezia? Ma io ho sentito! Ma c'è il tè qua! Maggiorana curry! Oh scusi! Ah il curry! Curry! Curcuma! Curry! Curry! Misto grill! Misto grill! Ma se la vedai la misto grill! E qui te l'ho visto grill! Spezie marocchine! Paprica! Misto aglio! Ma quant'è? Ma quant'è? Questa è la mia che va a partire nel brugiaos! Brugiaos! Rossetti di cioccolato! No ma va che fida! No ma va che spettare! Rossetti di cioccolato! Oh bounty! Mamma mia signora! Quante cosa sono? Cialde! Queste forse! Ma guarda che carine queste caramelline! Ragazzi finalmente siamo arrivati a casa! Volevo farvi vedere queste tre cosine! Proprio tre! Che ho preso a Primark! Ho preso! Questa cuffia da bagno che mi serviva! Perché il cameraman me l'ha fregata! Che la che avevo! Ma guardate che bella! Com'è fatta eh! Aspetta! Sì faccio vedere! È tutta! Fuggerata in potone! Guardate che bella che è! Guarda! Per tenere il cervello insieme! Chiudo dentro! È bella morbida! Oh non ci sento più! È bella morbida! E dentro ha tutta la lam! La spugna! Così non vi si bagnano proprio i capelli! E questa l'ho pagata! Aspetta che ti dico il prezzo! 2 euro! Guarda! Per 2 euro! Ma che bella con questi cuori! 3 euro! Ho preso questa terra qui! Questa qua! Bella scura come piace a me! Ditemi se l'avete già provata! Perché anche mio marito fa 3 euro! Che terra vuoi che sia! Ma magari è buona! Cioè non farà male! E poi! Ah! 4 euro e 50! Ho preso questo profumo qui! Che buonissimo! No questo è veramente... Mi faccio vedere come si dice! Come dicono le meccate! Il packaging! Il packaging! Era l'ultimo! No ma sentite che per 4 euro e 50! PS! Love Noir! Sa di zucchero! Sa di zucchero filato! Guardate che carina la confezione! Guarda che mi ci vedo dentro! Guarda! Ed è buonissimo! Sa di zucchero filato! Provatelo che è veramente buono! Da Primark! E basta! E basta! Proprio queste 3 cosine qua! Volevo farvele vedere! E allora ragazzi! Guarda che... Vi! Guarda che!